Ciao Veronica Ciao Allora, Vodafone e Spotify, come è nata questa collaborazione? Guarda, siamo molto contenti perché finalmente anche in Italia questo è il terzo paese che lancia la partnership con Vodafone dopo UK e Irlanda e quindi siamo felicissimi di poter offrire la migliore esperienza musicale in Italia ad un prezzo super vantaggioso per tutti i clienti Vodafone Spieghiamo come funziona la partnership e quali sono i vantaggi per chi usa Spotify? Tutti gli utenti Vodafone che hanno una tariffa con un piano dati possono attivare Spotify a 6,99 al mese invece che 9,99 quindi un prezzo esclusivo con un mese gratuito quindi questo ti permetterà di avere tutta l'esperienza Spotify Premium quindi grande qualità audio, accesso ad un catalogo di più di 20 milioni di canzoni la disponibilità di avere tutte le tue canzoni anche offline senza interruzione pubblicitaria quindi diciamo veramente l'esperienza completa per ascoltare la musica nel modo migliore sempre con te utilizzando ovviamente Vodafone Senti invece parliamo dell'evento di oggi, come è nato, cosa ne pensi? Beh diciamo che questo è assolutamente in linea con quello che è il nostro target di brand sia di Spotify che di Vodafone per siglare, suggellare questa partnership e questa relazione non poteva essere altro che un mix di hip hop per rispondere un po' a parlare quello che è il nostro target quindi siamo veramente entusiasti e non vediamo l'ora di assistere al concerto Ultime novità riguardanti Spotify nei prossimi mesi? Beh allora come sai Spotify è sempre la ricerca di nuove novità, innovazioni di prodotto eccetera ce ne saranno tante in serbo, ancora non posso dirti niente però adesso che siamo in partnership con Vodafone anche Vodafone potrà sfruttare dei vantaggi di tutte le nostre innovazioni diciamo Grazie mille Grazie a voi